Musica Prima di tutti sono Octi di Purpupeternana e in questo video parleremo della nuova skin Iconi che verrà data completamente gratis Io vi invito a iscrivervi al canale e lasciare attiva la campanella per non perdermi le notifiche e le live di questo canale Detto ciò andiamo subito al video Andremo a vedere come si ottiene la skin ma la prima cosa che vi chiedo veramente velocissima è di supportarmi come un creatore nello shop col codice OctiPefi A voi non costa veramente nulla è un codice brevissimo è questo qui siamo arrivati a 21.000 supporters e passa e vi ricordo che a 50.000 supporters mi taglierò la mia bella gamba pelosa Quindi forza quei supporters supportatemi nello shop quando shoppate una skin e mandatemi le foto su telegram che poi comunque vi riposto nelle storie Detto ciò andiamo a capire come funziona questa nuova skin Infatti come vediamo su questa pagina di Fortnite Titan News che comunque trovate il link in descrizione per non perdere le notizie riguardanti Fortnite Comunque troviamo allora tutte le informazioni riguardanti questa cosa Infatti Samsung ha appena annunciato che i giocatori che acquisteranno l'S10 riceveranno la skin iconic completamente gratis Infatti questa skin qua chiamata K-pop era una skin che è stata ancora prevista molto tempo fa che però però non è mai uscita Allora la Epic l'ha rifatta sotto questo stile qua e per rilanciarla per coloro che avrebbero shoppato il nuovo telefono S10 È un po' come la skin Galaxy l'S9 per la skin Galaxy l'S10 per la skin iconica e devo dirvi che è una skin che a me piace tantissimo Ed è strano che una skin maschile mi piaccia così tanto Inoltre non è però per forza detto che questa skin non la vedremo mai più infatti probabile che venga messa nel Season Pass Battaglia 8 E io spero vivamente di no perché mi fa proprio schifo spero vivamente di no spero vivamente di no Qua viene addirittura detto che potrebbe essere una skin del Pass Battaglia 8 che avrà uno stile aggiuntivo per chi comprerà i prodotti Samsung Chi lo sa chi lo sa lo andremo a vedere per ora non si sa Detto ciò ragazzi io non ho altro da dire questo è come verrà ottenuta questa skin che ricordo verrà data completamente gratis comunque a coloro che acquisteranno l'S10 Quindi se dovete prendervi un telefono pensate di prendervi il Galaxy S10 se siete dei collezionisti e volete shopparla assolutamente E niente raga per il video di oggi è tutto vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanella Detto ciò ciao Grazie a tutti